Un episodio ingriscioso che dobbiamo condannare duramente. Inizialmente non volevo nemmeno denunciarlo, ma chiaramente abbiamo avvisato la necessità di doverlo fare semplicemente perché altrimenti saremmo stati conniventi con questo delinquente. Meno male che i danni non sono un danno consistente, hanno squarciato la gomma della mia panda, però è un poco più importante il danno che ha subito un mio sostenitore. In un certo qual modo gli hanno danneggiato un vetro della portiera laterale destra, gli hanno squarciato due gomme e hanno rubato il cellulare. È chiaro che è un episodio che dobbiamo condannare fermamente e che ha rovinato questi primi giorni di campagna elettorale qui a San Martino. Un danno di immagine per la nostra San Martino che si poteva anche evitare. Chiaramente noi andremo avanti sulla nostra strada e continueremo a parlare di contenuti e di programmi in questa campagna elettorale. Colgo l'occasione per ringraziare subito tutti quanti che hanno manifestato la loro solidarietà a me e agli amici della mia compagine rispetto a questo episodio increscioso che, lo ribadisco, è un episodio grave, anche se di piccola entità, che può semplicemente rovinare questa bella campagna elettorale. Grazie a tutti.